Gli auguri alla zia Daniela? Sì, dove siete? Io non stai bene da qui. Tu stai bene? Stai bene? Sì? Ma siete al mare? Partita l'ultima serie, partita l'ultima serie dei 400, dove corre anche Roberto Labarbera nella quinta corsia, nella prima Pazzaglia Andrea, nella terza Vanzo Luigi, D'Agostino Francesco nella quarta, Labarbera Roberto nella quinta, Conker Walter nella sesta, Ruffini Renato nella settima, una... Cerchiamo di spingere alla vivo, cerchiamo di dare forza anche a Labarbera Roberto che sta cercando il suo... Forza, forza che è fatta, forza, vai Roberto... Grazie mille, grazie mille, grazie mille...